Gli indennizi per la lentezza dei processi, ma anche un'attenzione alle manutenzioni delle infrastrutture e i risarcimento i danni generati da cattive manutenzioni stradali. C'è anche questo nelle relazioni del Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, Salvatore Nicolella, e del Procuratore Michele Oricchio. Lo scorso anno la sezione ha emesso condanne per 17,7 milioni di euro. Ha spiegato Nicolella all'inizio dell'anno c'erano 232 giudizie, ha aggiunto il 25% è giunta ad assoluzione e il 42% a condanna. Oricchio ha invece sottolineato la lentezza della giustizia, dato preoccupante e non inedito nelle relazioni annuali. Attualmente sono 5.000 decreti di indennizzo causati da un'irragionevole durata dei processi. Per ciascun ritardo bisogna corrispondere 400 euro e occorre sottolineare che i processi in sede civile durano anche 10-15 anni. Identificare i responsabili è sempre complicato perché durante i procedimenti spesso si succedono numerosi magistrati e cancellieri. Particolare attenzione anche all'indomani del crollo del ponte Morandi è stata rivolta alla manutenzione delle infrastrutture. In Campania ci sono ben 365 cavalcavia di cui non si conoscono i proprietari e quindi è quasi impossibile identificare chi deve provvedere alle manutenzioni. A livello nazionale ci sono mille casi analoghi e questo rappresenta un enorme pericolo per l'incolumità generale.